Musica Andiamo adesso a rimettere la sua teca E non abbiamo bisogno nemmeno di giravite Perché praticamente la plastica protettiva non c'è Adesso vado a prendere il raccoglitore per mettere a posto il fascicolo Ecco qua che sono andato a prendere il raccoglitore con i fascicoli precedenti Andiamo ad inserire anche questo numero 12 Ed ecco qua che abbiamo completato anche questo numero delle grandi Ferrari F1 Adesso lo vado a posizionare insieme agli altri modellini e ci lasciamo Ed ecco qua ragazzi messo anche il numero 12 delle grandi Ferrari F1 Qui abbiamo il numero precedente l'11 e qui abbiamo il 12 Invece a fianco abbiamo tutte le altre che abbiamo già fatto sul canale E niente ragazzi mettetevi un piaccio, commentate, iscrivetevi al canale E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti belli Ciao a tutti